All'obiettivo di sostenere lo sviluppo del minore, il bando pubblicato oggi dal Comune di Fano offrendo al genitore che lo alleva da solo un sostegno economico. La Regione Marche non ha ancora emanato le linee di indirizzo sulla materia che fino allo scorso anno erano di competenza delle province, ma per non interrompere la continuità assistenziale l'amministrazione comunale in modo del tutto autonomo ha deciso di erogare un contributo. Non tutti i comuni sono riusciti a farlo, noi ne abbiamo individuata come priorità, per cui verrà dato in base al modello ISEE e al numero di figli riconosciuti da un unico genitore un contributo mensile che verrà erogato in una tantum per il 2015. Poi ci sarà un'agevolazione sulla Tari, quindi sulla tassa su rifiuti, sul ciclo idrico e quindi sull'acqua, ovviamente sempre attraverso il modello ISEE. Fino a quando potrà essere presentata la domanda? Allora la domanda potrà essere parte da oggi, il bando scade l'11 novembre e lo si può trovare pubblicato sul sito del comune di Fano. Per chi avesse difficoltà a consultare il sito può rivolgersi direttamente agli uffici di via Sant'Eusepio in Sant'Orso di Fano, dove ci sono i servizi sociali e chiedere direttamente una copia ed eventualmente degli dettagli, degli spiegazioni, delle informazioni su come partecipare e se può partecipare.